Se noi non risolviamo che cos'è la casaleggio associati nella politica italiana, perché la casaleggio associati possiede un partito, allora quel partito se lei va a chiedere al Movimento 5 Stelle e nessuno gli risponde quanto è costato la manifestazione, ma nessuno dice, scusate, la casaleggio associati, che cos'è? Possiede un partito, un movimento politico, Berlusconi possedeva e possiede Forza Italia, ma firmava gli assegni per Forza Italia. E quindi erano, nei conti di Forza Italia c'era l'erogazione liberale o il sostegno o il prestito di un signore chiamato Silvio Berlusconi, nel bilancio c'erano. Qua, nel bilancio di un movimento, non c'è nulla, perché c'è un altro soggetto che sostiene le spese.